buona giornata amici e ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 10 ottobre 2024 vediamo subito il santo del giorno facendo gli auguri a tutti coloro che si chiamano giovanni no giovanni daniele daniele infatti è il nome di un missionario eccezionale si chiama daniele comboni visse nel diciottesimo del diciannovesimo secolo nell'ottocento dunque è stato un grande missionario in africa lo vediamo qui nella grafica dedicò la sua vita alla evangelizzazione della gente di colore lottò contro la tratta degli schiavi e fondò numerosi istituti oggi chiamati appunto istituti comboniani a lui si deve una grande opera di non solo di evangelizzazione ma anche di aiuto materiale in quei paesi che erano più diseredati allora ma lo sono forse anche oggi del continente nero vediamo ora le previsioni del tempo e oggi abbiamo una profigo una importante variabilità tempo localmente instabile verso le alte marche con piogge rovesci spazi nelle ore pomeridiane i venti saranno moderati e forti espireranno da ovest e sud ovest e sulle coste dal sud ovest nell'entroterra il mare leggermente mosso le temperature 15 la minima 24 la massima il sole sorto alle 7 e 14 e tramonterà alle 18 e 34 ed ora apriamo i giornali cominciando oggi dal resto delle carlino dando un'occhiata all'articolo di apertura il carlino da tempo mostra la sua attenzione per quanto riguarda il ruolo ricoperto dalla proloco per quanto riguarda gli incarichi affidati all'associazione anzi io la definirei un insieme di associazioni perché la proloco veramente raduna tante associazioni cittadini un esercito di volontari circa 500 volontari che hanno aiutato l'amministrazione comunale a così a realizzare con poco tante tante manifestazioni ebbene oggi parla l'ex sindaco massimo seri che difende l'assessore lucarelli i soldi alla proloco anche prima di lui furono dati perché la proloco è stata una da sempre un'istituzione a fianco del comune per realizzare organizzare convenientemente diceva appunto tante manifestazioni ebbene e lui è stato un bravo assessore ha detto seri riferendosi a lucarelli nessuna incompatibilità di ruoli perché poi alla fine chi ne ha tratto vantaggio è stato il comune ovvero l'ente che rappresenta tutti abbiamo 500 volontari che sono un punto di forza della città è un rapporto è stato costante dovremmo veramente rendere merito a questi volontari piuttosto che gettare la croce loro addosso per quanto hanno fatto sacrificando il loro tempo e loro famiglia e neanche forse anche la loro entità economica tutta la città ha visto in questi anni l'assessore lucarelli movimentare il muletto che posizionava le casette di legno del mercatino di natale della proloco interroga in calza la giornalista per quanto riguarda le domande a seri vediamo anche che l'assessore non è che è stato lì a guardare a organizzare ma anche lui ha messo le mani in pasta ebbene lui dice le seri mi sento di dire grazie a tutte quelle persone che fanno parte della proloco per il loro contributo compreso etienne e gino gino e gino bartolucci perché tutto quello che c'è a tre ponti è del comune che in tutti questi anni non ha speso un euro ebbene tutto quello che è stato realizzato a tre ponti a carico dell'associazione che l'ha realizzato però appartiene al comune quindi anche questa è una ricchezza che ha avuto la città vediamo un'altra notizia si parla di antenne sul resto del carlino questa mattina si tratta di antenne perché l'antenna è un argomento molto molto spinoso ed è stato oggetto di vibrate proteste di tante preoccupazioni di ansie espresse dai cittadini che si sono riuniti l'altra sera nella sala della comunità del vallato ebbene il casus belli questa volta è costituito dall'antenna che una entità che si dedica alla telefonia mobile iliad intende così realizzare nel perimetro dell'istituto don gentili don bosco boato al don bosco dice il titolo 200 no all'antenna è un'antenna alta di 32 metri pensate che verrebbe eretta vicinissima ad un istituto scolastico insomma poi tutti i residenti sono preoccupati perché quando ci sono le antenne ci sono le radiazioni ci sono problemi di carattere ambientale che tutti noi conosciamo era presente a questa riunione la vice sindaca loretta manocchi la quale ha detto che al momento è riuscita a stoppare la riunione di servizi che era stata convocata nella giornata di ieri è stata così dilazionata di un mese si cercherà appunto di trovare un accordo con la nuova società per individuare un nuovo punto l'amministrazione comunale aveva così proposto l'idea di mettere l'antenna la nuova antenna lo stadio mancini la società però non è stata d'accordo ora si cercano altri siti e vedremo come andrà a finire comunque l'importante per i cittadini è quella della tutela della salute che doveva essere un compito primario dell'amministrazione comunale ma sappiamo però come l'amministrazione comunale si confronta con una normativa che certo non aiuta l'ente a tutelare la salute dei cittadini e poi vediamo purtroppo un progetto che al momento viene rimesso nel cassetto si tratta del progetto di ristrutturazione del bastione sangallo l'amministrazione comunale aveva partecipato ad un bando regionale per ricevere finanziamenti e finanziare questa ristrutturazione interessante sia dal punto di vista delle barriere architettoniche perché venivano eliminate sia dal punto di vista della valorizzazione di questo manufatto cinquecentesco che campeggia in un angolo molto rappresentativo della città di fano ebbene il progetto però non ha avuto il finanziamento della regione fano non è stata inserita nella lista degli investimenti regionali il sindaco serfilippi cercheremo fondi nostri cercheremo di finanziare questo progetto con i fondi del bilancio fanese fano dunque perde l'occasione le domande che sono state presentate a questo bando erano oltre 40 11 sono stati i comuni che hanno ottenuto il finanziamento c'è anche una prova di riserva appunto quando poi si fanno gli aggiustamenti di bilancio il comune di fano cercherà di proporre alla regione lo scorrimento della lista e chissà se sarà possibile tornare ad avere quei finanziamenti regionali che servivano per realizzare il progetto vediamo qui un rendering di quello che si intendeva fare con il camminamento che così veniva realizzato tramite una torre tipo quella degli assedi medievali che veniva costruito al lato al lato del monumento giriamo la pagina e diamo l'addio ad un negozio ad un negozio che era nel centro storico di fano da 26 anni si tratta dell'emmenco addio dopo 26 anni e come perdere un figlio vediamo qui le titolari roberta biagiotti con la figlia cecilia mazzi eccola eccola qua erano nel corso cittadino erano un punto di riferimento importante purtroppo le spese ormai sono diventate erano diventate superiore alla redditività dell'esercizio e quindi purtroppo è un altro negozio che se ne va ringraziamo di cuore tutti hanno scritto la signora roberta e la figlia cecilia mazzi che con lei gestizie il negozio per averci scelto in questi anni ebbene dal 5 ottobre è partita la liquidazione un articolo di cronaca al centro pagina del resto del carlino picchiava e derubava un ragazzino bullo a processo e un marocchino un giovane marocchino che aveva preso di mira un ragazzo sedicenne fanese voleva a tutti i costi sigarette lo torturava lo minacciava lo ha anche bastonato ad un certo punto ebbene alla fine è finito a processo e ora dovrà passare a dei lavori socialmente utili per espiare la sua pena difendete la sanità pubblica un presidio della cgl nel giorno del g7 ebbene ieri c'è stato un presidio con le bandiere della cgl davanti all'ingresso dell'ospedale santa croce il tema che è stato rivendicato è quello della sanità una sanità che fa acqua da tutte le parti hanno detto i sindacalisti soprattutto per quanto riguarda le liste di attesa le accessibilità ai pronti soccorsi alla carenza alla carenza dei medici sono temi questi che sono in ballo da diverso tempo che la regione dovrebbe cercare di risolvere ma ovviamente ancora ci sono difficoltà e quindi la cgl incalza incalza con i suoi pensionati incalza con la sua funzione pubblica ieri c'erano anche alcuni politici che hanno fatto parte del presidio c'erano consiglieri regionali consiglieri comunali esponenti appunto anche delle passate amministrazioni e si cerca appunto nel momento in cui si riunisce il g7 sulla sanità in ancona di ribadire di mettere in evidenza questo problema nei confronti della giunta regionale passiamo all'entroterra e vediamo quello che accade a san lorenzo in campo dove una associazione si rende benemerita ebbene è la formazione musicale del coro iubilate da formata da 30 voci da 20 anni sul campo un'associazione che ha fatto della polifonia una ambasciatrice appunto di quanto si coltiva nella nostra terra ebbene una formazione che aglieta a tante tante manifestazioni e fa molti concerti diretta da per quasi 16 anni da olinto petrucci che era anche uno storico cantante uno storico organizzatore anche di fano ebbene dal gennaio del 2020 al giugno del 2022 è stato guidato questo coro dal maestro pier carlo fontemaggi a cui poi è subentrata la maestra anna maria cornacchini sono 30 gli elementi che coltivano una un repertorio musicale che va dal sacro al profano al tradizionale insomma sono veramente belle le ibrani che esegue e parliamo anche della dengue per quanto riguarda l'entroterra perché la dengue non è un problema che riguarda soltanto fano anche se a fano si è concentrato un focolaio di questa brutta malattia sappiamo che poi è emigrata anche a pesaro ma si preparano anche interventi preventivi anche a mondolfo allora dengue stanotte la disinfestazione a mondolfo ma la minoranza ha dubbi sulla sulle modalità e viene slittata di 24 ore a causa della pioggia questa iniziativa di disinfestazione dei giardini pubblici di mondolfo ebbene il capogruppo della minoranza anteo bonaccorsi è perplesso ripesto rispetto alle modalità che sono state assunte per eseguire questo intervento perché dice non basta disinfettare soltanto i giardini pubblici occorre fare un intervento più a vasto raggio perché poi le zanzare non è che insomma rimangono nei giardini pubblici non vanno magari in quelli privati e quindi ci vorrebbe intervenire anche in tutte le aree sensibili come cortili balconi giardini parchi cimiteri e orti ebbene insomma si vuole la massima attenzione per quanto riguarda la dengue e vediamo che la dengue continua continua molto a preoccupare continua molto a preoccupare e lo vediamo qui in questo articolo che riguarda pesaro dengue secondo caso a pesaro intanto a fano sono già 122 i conclamati che hanno avuto questa malattia parte uno screening sui conviventi a pesaro ebbene l'idea è quella di quando sorge un caso di dengue anche di monitorare tutti coloro che sono stati vicini perché la zanzara che appunto la persona che è rimasta infetta può avere poi punto anche altre persone che vivono che stanno a lui vicine ai contatti stretti dei sintomatici si propone di sottoporsi ad analisi per ragginare il fenomeno nella scorsa notte una vasta attività di disinfestazione è stata compiuta in zona mare al lavoro la virologa di ancona ebbene c'è un secondo caso dunque di febbre dengue a pesaro poca cosa rispetto ai 122 che sono stati conclamati a fano con 28 probabili ma però ci sono molte molte conseguenze vediamo anche che il virologo fabrizio per gli asco non sottovaluta per nulla quello che è avvenuto a fano e infatti quello che è avvenuto non lo definisce soltanto un focolaio ma addirittura un incendio ebbene siamo quasi vicino ad un'epidemia anche se con questo termine si identifica un numero maggiore di persone che sono rimaste coinvolte da questa malattia il virologo e con lui Bassetti parla di conseguenze dovute ad una sottovalutazione iniziale il G7 salute deve prendere atto di questo problema Ciccozzi il covid non ci ha insegnato proprio nulla ebbene bisogna veramente prendere sul serio il diffondersi di questa malattia perché ovviamente quelli che hanno avuto hanno avuto questa influenza non stanno affatto bene ci sono veramente delle delle dichiarazioni drammatiche che che vengono e che vengono pubblicate proprio dai giornali questa mattina di coloro che hanno avuto il la dengue che hanno avuto questa influenza malefica vediamo un attimo se riesco a rintracciare l'articolo di queste testimonianze vediamo un attimo eccolo qua sì vedete sono stato malissimo non lo auguro a nessuno è un articolo pubblicato da Gianluca Murgia sulla pagina di pesaro sono stato molto male la febbre alta e vomito valori del sangue sballati dolore agli occhi alla testa stanchezza incredibile quattro giorni passati al pronto soccorso di fano e altri dieci a casa non auguro a nessuno di prendere la dengue racconta così Enrico Fenocchi 47 anni fanese dipendente aset lui è stato uno dei primi ad ammalarsi di questa malattia il problema è il canale Albani da lì è partito tutto ha detto Miriam Rovinelli 61 anni commerciante anche lei ha avuto la dengue l'ha contratta alcuni giorni dopo e ora ha veramente paura ha veramente paura perché se viene poi infettata una seconda volta allora la situazione è molto molto grave dicono i medici e c'è veramente il pericolo di vita quindi è una malattia da prendere con le molle quella che sta coinvolgendo la popolazione fanese ora ha problemi di anemia e dovrò effettuare dei controlli da me la dengue ha detto la signora si è manifestata con febbre alta dolori alle ossa un rash cutaneo e problemi al gusto avevo la bocca talmente amara da non riuscire più a mangiare quindi scongiuri il comune effettuate le pulizie dei rigagnoli dei torrenti dove l'acqua ristagna effettuate la disinfestazione in primavera e non a settembre e a ottobre e proprio alla prossima primavera si farà una nuova disinfestazione lo ha già anticipato il sindaco Luca Serfilippi che insomma si è reso conto che bisogna senz'altro anticipare la disinfestazione rispetto a quanto è stato compiuto quest'anno siamo sul Corriere Adriatico vediamo dunque l'apertura che effettua il giornale sulla pagina di Fano vediamo che l'attenzione è posta sul presidio che ha organizzato la CGL davanti ai cancelli del Santa Croce situazione sempre più allarmante quella della sanità il sindacato evidenzia come incidono profondamente criticamente negativamente le liste di attesa l'emergenza è in affanno tutto l'apparato del pronto soccorso dell'urgenza e emergenza c'è poco personale e c'è il dramma della non autosufficienza un dramma che ha posto in evidenza Lilli Gargamelli che dei pensionati la nuova segretaria dell'ospici GL provinciale la quale ha posto un particolare accento sull'aspetto socio sanitario dell'assistenza ebbene quella della non autosufficienza è un problema che grava su tante famiglie non solo dal punto di vista sanitario ma anche quello sociale perché quando in una famiglia magari anziana si verifica un caso di Alzheimer di demenza senile e magari l'altro coniuge è anziano anche lui e non ha più le forze non ha nemmeno magari le risorse per sostenere adeguatamente il proprio coniuge ebbene le cose si complicano in maniera veramente assai grave in questo caso ci sono tante famiglie che vengono lasciate sole a Fano sono oltre 200 le famiglie in lista d'attesa mentre a Pesaro ci sono 574 famiglie che sono state certificate e poi i casi di Alzheimer sono molto di più in tutto il territorio se si allarga lo sguardo anche all'entroterra. I problemi si ampliano ha evidenziato il responsabile regionale dei pensionati che insomma era presente insieme al responsabile della funzione pubblica dunque da una parte Davide del Fattore segretario generale della funzione pubblica della CGL e poi c'è anche Elio Cerri segretario regionale dei pensionati che hanno fatto parte di questo presidio a cui hanno partecipato poi li vediamo qui anche nella foto alcuni esponenti politici di livello regionale. Una presa di posizione all'interno della maggioranza ha spinto Alberto Rinaldi che è capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a stimolare l'amministrazione comunale a fare qualcosa di più per quanto riguarda il turismo. Bisogna attuare, bisogna rendere disponibili dei sopporti a chi riqualifica gli alberghi e le strutture ricettive. Non è più possibile lasciare in abbandono queste strutture che magari accusano il peso degli anni oppure così insomma non dare incentivi a coloro che potrebbero anche qualificare la nostra offerta turistica. È uno stimolo che Alberto Rinaldi si è sentito di fare proprio all'interno della maggioranza per dare più vigore all'offerta turistica fanese. Abbiamo anche l'articolo che riguarda poi la riunione che si è svolta nella sala della comunità del Vallato l'altra sera, un mese per trovare un altro sito e quello che si è riservato l'amministrazione comunale per cercare di trovare un accordo con la società che intende elevare la nuova antenna all'interno del perimetro del Don Bosco, un'antenna come dicevo alta 32 metri che costituisce un monumento discutibile anche dal punto di vista ambientale, ma soprattutto quello che preme di più ai cittadini è la tutela della loro salute. Perché insomma molti sono gli studi che evidenziano come poi le onde emesse da queste antenne siano pericolose. Vediamo anche quello che è accaduto a Cantiano, si schianta e muore sulla Flaminia, un grave incidente stradale, si è verificato nei pressi di una galleria, un incidente in cui è morto Pasquale Rizzo, 69 anni, era al volante di un furgone finito contro un autotreno. Il furgone ha invaso inaspettatamente la corsia opposta, nel momento in cui sopraggiungeva un autotreno, si è avuto uno scontro terribile, un grande boato che si è sentito poi in tutta la frazione e poi una carambola che ha coinvolto anche altre autovetture. Nell'impatto ha coinvolto anche un Audi con a bordo tre persone di cartoceto, una è rimasta illesa, ma purtroppo è finita male per l'uomo che era al volante del furgone. Poi vediamo anche come il Corriere Adriatico riporti la notizia dell'episodio di bullismo che si è verificato a Fano, alcuni aspetti sono verificati anche nei pressi dello Sport Park nel maggio del 2021. Ebbene un ragazzo bullizzato, angariato da parte di alcuni giovani, tra cui spiccava appunto questo marocchino, un 23enne che ora davanti al GUP è stato oggetto dell'accusa di atti persecutori e anche di rapina, insomma gli voleva a tutti i costi il tabacco, sigarette e via dicendo, insomma proprio minacciandolo e anche passando alle mani. Vediamo anche la pagina di Senigallia, turni pomeridiani, caos al Corinaldesi, mancano i bus e studenti rimasti a piedi. Ebbene si fanno lezioni anche al pomeriggio al Corinaldesi, ma al pomeriggio non ci sono i mezzi di locomazione. Ed ecco appunto che ci sono le famiglie che vanno dal sindaco per avere un supporto, il sindaco ha scritto alla scuola, alla provincia, all'azienda di trasporti per così risolvere questo problema di carattere logistico. Vediamo a che siamo in conclusione. Voglio concludere con questa notizia che viene da Pesaro ed è l'apertura che il Corriere Adriatico fa sulla pagina pesarese. Si parla dell'ex tribunale che dovrebbe diventare un museo delle motociclette. Ebbene il cantiere qui è fermo da oltre cinque anni, ma il museo comunque va avanti. Il Comune affida alla Fondazione Pescheria il compito di redigere il piano. Sarà un po' l'espositivo dedicato alle mote e accoglierà anche opere d'arte. E con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento a domani alle sette. Grazie per l'ascolto e a risentirci.